oggi parliamo di teatro e lo facciamo dal teatro gioiello di torino per shakespeare per due è una novità questa è lì a shakespeare per due esattamente shakespeare per due noi siamo i due non abbiamo qua shakespeare un solo ma noi cerchiamo di onorarlo con le nostre geste le nostre opere è un bello spettacolo davvero è molto divertente comico divertente anche serio anche serio perché noi alterniamo i pezzi drammatici a quelli comici per una diciamo carrellata di di opere di shakespeare le più famose più note andiamo da rome e giulietta essere non essere amleto giulio cesare il sogno della mezza estate insomma le più famose le prendiamo e la cosa bella che fate tutto voi tutto noi come si faceva all'epoca di shakespeare esatto i maschi facevano le femmine perché le donne non potevano recitare allora quindi infatti la cosa bella è questa che quando ebbe inizio il teatro le donne non erano messe sul palco e quindi esattamente come appunto dicevi tu stefano interpretavano i ruoli femminili dovevano travestirsi con parrucche trucco quello che si poteva e facevano anche ruoli donneschi ecco entrambi fatte il ruolo femminile o l'onore c'era solo elia no entrambi ci camuffiamo poi con questa barba sai con quelle parrucche forse forse loro si depilavano credo ma non so però erano più credibili si erano più credibili e si perché entrambi con la barba si 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 tra l'altro con la barba non è stata voluta questa cosa però siamo nati con la barba ma sei gemelli che però lui non ce l'ha la barba perché infatti uno deve esserci non anche il nostro teschio che in realtà al teschio nella scena di essere non c'entra nulla però diciamo che è un'icona e nell'immaginario collettivo di shakespeare c'è il teschio e quindi facciamola anche col teschio così almeno siete in tre sul palco esatto stefano è la prima volta che interpreti shakespeare sul palco e hai fatto altre no shakespeare sul palco è la prima volta questo primo spettacolo dove interpreto ti mette un po' ansia ma inizialmente è sempre un autore è sì poi uno arriva a interpretare shakespeare con i ricordi un po di scuola però in realtà poi interpretandolo studiando leggendo le opere si scoprono tante cose di shakespeare molto attuali capisci perché ancora oggi si porta nei teatri qual è la vostra opera preferita quale vi piace di più allora è interessantissimo il sogno di una notte di mezza estate per la sua complessità e per la sua varietà di personaggi ce ne sono davvero tanti e noi pensate li facciamo quasi tutti quindi in due giriamo quello mi piace un sacco sia un ritmo elevato e invece a te stefano quello che mi piace molto è giulio cesare giulio cesare si più drammatico i due monologhi molto belli che noi tra l'altro inseriamo quello la parte che facciamo quello di marco antonio di brutto bella mattia cesare hanno delle parole molto forti molto forti e molto attuali anche invece molto è uno spettacolo che portate di continuo al teatro gioiello perché comunque piace se ogni tanto lo rivediamo in cartellone come reagisce il pubblico si diverte voi che comunque avete questo confronto no col pubblico mentre si diverte molto c'è fin dall'inizio dello spettacolo qua torino tra l'altro il pubblico che girando è il più caldo almeno personalmente quello che ci sono dicono in tanti io non capisco se poi essendo di torino penso che sia una cosa vera assolutamente siete i migliori però comunque con questo spettacolo giriamo anche tutta l'italia siamo andati in sicilia siamo andati a roma milano e comunque troviamo sempre un grande riscontro magari all'inizio uno pensa a shakespeare dice un po' un po' noioso cosa cosa andiamo a vedere infatti ogni tanto quando lasciamo domande c'è questo domande non me lo aspettavo così perché uno si dicono non se lo aspettavano il titolo shakespeare si aspetta quindi venite a teatro vedere assolutamente perché si ride si sogna si riflette e ci si diverte e adesso noi vediamo la dimostrazione perché io potevo scusate visto che i lettori sono tutti due qua potevo non approfittarne allora adesso io aspetta che vediamo dovevo nasco dove la parrucca abbiamo un sacco di cose qui sì sì vogliamo non farvi vedere elia con la sua parrucchina da giulietta ragazzi ecco entro già nella mia parte di giulietta e mi sa che stefanos e romeo così 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 o romeo romeo perché sei tu romeo rinuncia al tuo nome rinnego tuo padre o se non vuoi giurami per sempre amore io non sono più una capoletti quanta luce a quel balcone ecco l'oriente giulietta e il sole solo il tuo nome mi è nemico ma tu sei tu e non un montecchi ma poi che cosa vuol dire montecchi che cosa sai in un nome una rosa anche senza quel nome non avrebbe comunque profumo e anche tu romeo se non ti chiamassi romeo ma ti chiamassi ermengildo pasqualone saresti comunque perfetto romeo prenditi in cambio tu da me stessa sì ti prendo in parola e allora chiama mi amore e così ribattezzato non sarò più montecchi ma chi sei tu che protetto dall'ombra della notte sorprendi i miei pensieri con un nome non so dirti chi sono perché ti è nemico la mia orecchia non ha bevuto cento parole di quel suono che già ne riconosce la voce ma sei tu romeo uno dei montecchi ne uno nell'altro mia dolce fanciulla se tu non li hai cari ma come hai fatto ad arrivare fin qui il muro del zardino è alto c'è un buco possiamo andare avanti alla infinita una però bravissimi ma una giulietta così brutta non l'avevo mai vista grazie grazie mille per questo perché abbiamo voluto rompere poi gli schemi vabbè adesso io farei tipo il jukebox quindi prendo un altro oggetto di scena che devo darlo esatto questo lo diamo al quarto grande grande amleto opera amleto vai to be or not to be that is the question that is the question scusa perché lo fai in inglese Shakespeare in inglese Shakespeare in inglese il pubblico cosa parla italiano e tu cosa sei? italiano e parli? italiano più o meno e allora lo fai in? portoghese no come portoghese no no italiano in italiano è logico essere o non essere questo è il problema ma che è sta ampollosità sta antichità ma poi quando sei un egiziano che ti metti di profilo ma che cosa? ma devi essere più moderno più sciolto più fluido più moderno? più sciolto più sciolto essere o dover essere il dubbio amletico ma che fai? ma che vici? ma che cosa? ma moderno con un linguaggio dell'epoca non moderno odierno senti devi essere moderno devi essere sciolto ma devi essere concentrato teso teso con i piedi per terra ma veramente? essere o non essere questo è il problema no questo è il problema cosa fai? sono concentrato mi sto concentrando ma la gente ha paura se mi fai quella faccia lì in camera ma ascolta devi essere moderno devi essere concentrato ma soprattutto ti devi divertirti mi devo divertirmi? ti devi divertirti in italiano? in italiano te l'ho detto essere o non essere questo è il problema cosa fai? mi diverto no senti togli questa faccia da sole guarda abbiamo gli stessi denti e andate dal dentista avete capito cosa vi perdete se quando trovate in cartellone c'è XMX2 non c'è due senza tre cosa proponiamo con un pezzettino di? un pezzettino di Giulio Cesare beh sì andiamo più sul facciamo capire che siamo non siamo proprio stupiti adesso con questa parte loro dimostreranno la loro austerità perché sono anche seri forse sì ogni tanto ogni tanto ok e la loro bravura allora vai non ho fatto nulla di più a Cesare di quello che voi dovreste fare con bruto così come io ho ucciso il mio migliore amico per il bene di Roma anch'io meriti lo stesso pugnale quando la mia morte serva alla causa di Roma amici romani cittadini ascoltatemi io sono qui per seppellire Cesare non per elogiarlo il male commesso dagli uomini vive a lungo dopo di loro il bene invece resta sepolto con le loro ossa e così sarà anche di Cesare il nobile brutto vi ha detto che Cesare era ambizioso una colpa grave se fosse vera e Cesare l'avrebbe scontato duramente ora col permesso di brutto e di voi tutti poiché brutto è uomo d'onore e così voi tutti voi tutti uomini d'onore io vengo a parlarvi di Cesare davanti al suo corpo martoriato amici io oggi vi voglio tutti qui e se avete lacrime preparatevi a versarle bravi siete bravi dai siete bravissimi grazie ma la vostra famiglia è la prima volta che vi ha visto a teatro cosa ha pensato? in questo spettacolo sì in questo sono rimasti stupiti sono rimasti stupiti innanzitutto dalla struttura dello spettacolo perché come diceva prima Elia ha un ritmo facendo tante opere tanti personaggi soprattutto il finale con un sogno di rotte anche perché è difficile passare da una parte comica a una parte seria eh sì se proprio aumenta un'opera all'altra io e lui ai personaggi è complicato sì 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 quindi la cosa che la mia famiglia ha notato di più è il ritmo il ritmo dello spettacolo e invece era tua cosa ti ha detto? cosa ha notato? ma cosa sta facendo questo pazzo? però mi mi sostengono mi sostengono un sacco anzi vengono sempre ogni spettacolo e sono felice sono soddisfatti e lo sono anch'io nel percorso che sto facendo e che spero di fare grazie di essere stati con noi e averci regalato anche questa piccola parte di spettacolo grazie a te grazie a voi grazie a te grazie a voi grazie per lo spazio ci vedremo qui alla prossima benissimo io saluto e ringrazio tutti gli amici che ci seguono dal web del donningamba.com e i telespettatori di GRP ciao a tutti i saluto